Sono Stefano Pazzaglia, l'oste dell'antica trattoria Piedeldos di Gusciago e vorrei parlarvi un po' della nostra visione della cucina. Proponiamo una cucina che noi definiamo di Franciacorta partendo dai prodotti quindi innanzitutto il pesce di lago che è una tipicità il lago di Geo e poi le carni, il mercato bovario di Rovato con il suo manzo all'olio, quindi le lunghe cotture, i bolliti, arrivando al piatto tipico gussaghese che è lo spiedo. L'altra questione fondamentale è il prodotto, noi tendiamo a ricercare produttori del territorio, arrivando anche ai salumi e formaggi che sono appunto legati alle produzioni locali e ai salumifici locali. La nostra è una visione di cucina molto legata a slow food quindi partendo dal prodotto arriviamo al piatto anche attraverso a preparazioni e ricette che sono della nostra tradizione. Quindi se avete voglia di assaggiare e provare la nostra cucina vi aspettiamo qui a Gussago in via Forcella 46 dove appunto potete trovare quanto prima ho descritto. Grazie. Grazie.